ciao a tutti inizio con questo trentaduesimo video una nuova serie di video dedicati a quelle che sono state le manifestazioni che io insieme al mio amico Sergio del Bono e alle volte all'altro amico Franco Ciccolin abbiamo visto in Italia e all'estero spesso alla fine degli anni 2000 diciamo circa insomma una decina di anni fa ci trovavamo e passavamo due tre giorni in compagnia anche una settimana a vedere manifestazioni un po' particolari tra le tante manifestazioni che andavano molto di moda all'epoca c'era per esempio la coppa intero europa c'era la vernasca silver flag che va di moda tuttora c'era e c'è ancora l'allemand classic e ce ne sono poi tante altre di fatto di fatto su questo primo video inizierò a raccontarvi quello che è per me l'esperienza vissuta alla vernasca silver flag ho pensato che per raccontarvela la cosa migliore sarebbe stato riportare esattamente quello che di anno in anno ho scritto e pubblicato su alcune riviste questo perché in quell'istante cioè nell'istante in cui si scrive l'articolo si è appena terminato di vivere l'esperienza della manifestazione e pertanto la si sente molto molto dentro di di sé dentro se stessi quindi cosa ho pensato di fare di leggere gli articoli allora ovviamente se io mi mettessi con la telecamera il mio bel faccione a leggere gli articoli sicuramente dormireste dopo subito dopo allora ho pensato di fare una cosa diversa ovvero in questi 20 minuti più o meno di video vi faccio vedere 20 minuti di macchine in realtà quindi voi se volete vedete le macchine se non volete ascoltarmi non mi sentite per almeno vedete le macchine in maniera dinamica ovvero la vernasca silver flag di fatto funziona così se al tempo c'erano due giorni sabato e domenica da un po' di anni c'è anche venerdì per l'uscita in pista normalmente comunque vernasca silver flag funziona in questo modo sabato mattina c'è una prima salita tra castellar 4 punto vernasca sabato pomeriggio la seconda e domenica mattina la terza nel mentre ci sono dei box a cielo aperto da vedere dove ci sono dei capolavori delle auto veramente stupende e uniche alla sera c'è la cena al castello alla luce della della notte bellissima con tanto di spettacolo pirotecnico ma la cosa bella è che alla vernasca si possono vedere auto da corsa di tutti i generi dalle sport alle prototipo alle barchette alle macchine da rally pista salita formula 1 tutto quello che si vuole alla vernasca c'è e sono tutte macchine che hanno un pedigree serio quindi di fatto macchine che hanno raccontato lo che possono diciamo rappresentare un periodo storico molto molto importante quindi si va dalle prime anni anni 30 anni 40 fino a le formula 1 o anche le formula o anche le sport per esempio che hanno corso aleman fino all'anno scorso per cui di fatto c'è un si copre l'ambito motoristico a 360 gradi senza limitare alcun appassionato la cosa bella inoltre è che questa salita è di circa 9 chilometri la si fa appunto tre volte ma tutto torno destra a sinistra e ci si può fermare e ammirare le auto nel senso che la prima parte è un lungo rettilineo con alcune chicane che praticamente si fa io ho avuto la fortuna di farla nel 2018 con la mia alpine ed è un rettilineo fantastico e si va dritti veloci 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 c'è qualche chicane c'è una rotonda che rallenta un attimino il percorso però si può correre dopo lì che c'è un allongagnano c'è un 90 gradi sinistra proprio quindi si stacca anche se non si vuole 90 gradi sinistra legge la discesa ponte ed è lì inizia la salita fino appunto a vernasca una salita che è anche abbastanza ripida quindi questa salita poi a vernasca è di fatto tutta curve non sono tanti chilometri di fatto perché penso che più o meno saranno 4 chilometri 5 di rettilineo e altri tanti poi di salita in curva e curve ma è proprio bello perché in mezzo ad un panorama stupendo e poi si lascia il paese iniziale dove c'è lo start che è castellarquato che è un paese medievale che è la fine del mondo che è questo ma la cosa bella è proprio tutta l'atmosfera che si respira alla vernasca si è veramente tutti amici cioè si è veramente tutti insieme a cercare di rallegrare diciamo questi tre giorni di passione motoristica cioè è un momento proprio in cui ci si sta tutti insieme e si cerca di vivere un momento ma senza la frenesia della corsa perché di fatto a tutti gli effetti la vernasca non è una gara ma è un concorso dinamico cosa significa significa che i premi chiamiamoli così ci sono lo stesso per la vettura più particolare unica chi arriva più lontano e così via ma non di certo non lo si fa ovviamente per il tempo tecnico necessario per percorrere appunto questi 9 km di salita quindi è una due giorni una full immersion in un mondo bellissimo di tutte le age tutte le epoche diciamo tutto il periodo storico del motorismo effettivamente concentrato in questo paese in questo castellarquato dove appunto la cosa bella come dicevo prima che i box sono all'aperto cioè non esiste il concetto di box esiste una chiamiamola tendopoli ma per bruttola dirsi in cui in mezzo trovi la macchina con cui correva Jim Clark oppure la macchina di Ayrton Senna oppure ecco oppure così oppure ti giri e trovi Merzario e ci fai due chiacchiere ma funziona proprio in questo modo ci trovi Forghieri ci trovi Stirli Moss anche un anno c'è stato anche Stirli Moss cioè è proprio un ambiente da altri tempi e il club piacentino il KPAE è riuscito a mettere a creare questa atmosfera piacevolissima con dei nomi ovviamente fantastici di volti noti ma soprattutto uno ovviamente un appassionato si va a vedere volto noto ma magari va a vedere anche la macchina e macchine quindi sentire tutti questi sound dai due cilindri ai 12 cilindri 16 non credo che Auto Union io personalmente la non ne ho viste però di fatto c'è veramente di tutto di tutto e quindi impensabile non andarci io ho avuto la fortuna di andarci nel 2006-2008 insomma sette otto edizioni ho visto e una l'ho anche appunto vissuta e niente è una cosa che ti rimane nel cuore una cosa che ti rimane nel cuore e a cui non puoi appunto rinunciare bene allora detto questo dicevo sì che adesso vi lascerò in compagnia della mia voce che legge l'articolo del 2008 e le immagini sottofondo sono quelle della prima salita del sabato di fine giugno appunto del 2008 ho cercato di tagliare ovviamente alcuni momenti epici ripresi in compagnia appunto dei miei amici e quindi ho lasciato di fatto solo le immagini delle auto ma vi garantisco che sono quelle esperienze fatte con gli amici in armonia e che fanno dimenticare veramente tutto quello che può essere la quotidianità e sono quei momenti che servono ovviamente per stare bene quindi abbiamo cercato di farne più di qualcuno e quindi la vernasca era uno di quegli eventi classici diciamo in cui avevamo puntamento fisso anno per anno sotto il sole ovviamente si perdevano due o tre chili ogni sabato perché sotto il sole è coccente però valeva assolutamente la pena quindi ecco buon ascolto e ciao a tutti quando nel 2006 il mio amico Guy Moreno collezionista belga di Abarth mi ha parlato della Silver Flag che si corre tra Castellarquatto e Vernasca senza volerlo ha creato in me stupore e desiderio mi sembrava impossibile di non essere mai andato ad una manifestazione così importante revocazione di una gara in salita di circa 9 km che si correva quando il motorismo era passione e non denaro quest'anno si è corsa la tredicesima edizione di una manifestazione che grazie all'impegno del club piacentino automotoveicoli d'epoca e dei comuni limitrofi dell'ACI e di diversi sponsor ha saputo coniugare il dinamismo della corsa con il piacere della sfilata alla Silver Flag sembra di stare alla Coppa Intereuropa di Monza con la tranquillità di Villa d'Este e la passione dell'Allemagne Classic il clima è insomma quello delle manifestazioni importanti ricco di personaggi famosi dopo Forghieri quest'anno alla partenza si è vista Maria Teresa De Filippis se pensiamo ad un'auto famosa, unica, vincente e ovviamente costosa alla Silver Flag c'è tutte le auto che vi partecipano hanno una storia da raccontare fatta di successi e volti noti in seno alla manifestazione i più importanti marchi automobilistici si sono resi protagonisti la Lola, l'Alfa Romeo, l'Abat, la Porsche e tantissimi altri il Lola Group ha festeggiato i suoi 50 anni a celebrare quel 1958 in cui Eric Broadway iniziò l'avventura che ha portato il marchio inglese a sperimentare quasi tutti i campi del motorismo sportivo a quattro ruote Lola ha infatti scritto pagine indimenticabili in Formula 1 ad Indianapolis e a Le Mans dove il marchio inglese è cresciuto ed è stato in grado di evolversi secondo le esigenze dei tempi attualmente ha un importante centro di ricerca e sviluppo in grado di soddisfare le moderne esigenze sportive ma con un occhio sempre rivolto al passato al passato storico del marchio la Lola Heritage che ha istituito un registro depositario dei principali riferimenti tecnici alla Silver Flag è stata presentata un'importante selezione delle vetture l'MK1 che fu la prima costruita da Broadway ed in grado di aggiudicarsi subito la vittoria alla seconda gara la T92 portata a Indianapolis da Jackie Stewart la T298 BMW la T300 F5000 motorizzata Chevrolet la T290 e tante altre come la Lola Tecno da salita la sezione automobilismo storico Alfa Romeo dopo aver ricordato due anni fa le Giulia TZ di Zagato con ben 11 esemplari quest'anno ha reso omaggio a Giuseppe Merosi piacentino di inizio novecento fondamentale nella crescita agonistica del marchio milanese permettendo ai cultori del marchio e non solo di soddisfare i propri sensi esibendo dopo 20 anni di riposo al Museo di Arese la P2 la prima auto in grado di far conquistare al marchio del Biscione il titolo di campione del mondo costruttori nel 1925 progettata da Vittorio Iano è in grado di toccare i 225 km orari era inoltre presente la P3 l'auto che insieme a Nuvolari ha reso magnifico e unico il made in Italy del motorismo italiano degli anni 30 oltre a una 33 berlinetta Daytona da 260 CV un'alfetta GT una SZ Zagato due TZ e una delle sei incantevoli TZ2 costruite Abarth è il marchio forse più rappresentato alla Silver Flag circa 25 vetture dello Scorpione hanno fatto vibrare i timpani dei fortunati, non paganti, spettatori dalla Formula Italia del 1971 nata per dare speranza e titolo ai giovani piloti come le Formula Iuneo degli anni 50 alle 595 SS 850 TC 1000 TC e TCR radiali passando per la 750 goccia disegnata da Vignale e realizzata in due soli esemplari inoltre erano presenti le 1000 Bialbero berlinetta e muso apribile la 1000 OTR la 1000 3 OT periscopio la 207 Spyder Corsa 10 esemplari costruiti e le bellissime Abarth 1000 SP forse tra le più belle sport dell'epoca più recenti, ma sempre importanti le Ritmo Abarth Ex Bettega la 131 Gruppo 4 e le due X19 di cui una l'originale Abarth Prototipo del 74 costruita in soli 4 forse 5 esemplari e che Clay Ragazzoni ha portato al Giro d'Italia automobilistico la Porsche ha potuto ricordare agli aspassionati le sue origini corsaione il marchio di Stoccarda da sempre si è imposto nelle competizioni e alla Silver Flag erano presenti ben 3 Porsche 550 RS la vettura, oltre ad essere ricordata quale auto di James Dean deve la sua fama anche alla vittoria alla Targa Florio del 1956 con Umberto Maglioli oltre alle onnipresenti 911 e 912 il fortunato pubblico ha ammirato alcuni must della casa tedesca la 906 che alla fine degli anni 60 rappresentò sulle strade più importanti del mondo l'auto da battere la 908 del 1969 utilizzata dall'attore pilota Steve McQueen alla 12 ore di Sebring del 1970 e con cui si classificò secondo assoluto e infine la 956 degli anni 80 da subito performante la vettura diventa presto regina di Le Mans regalando al marchio tedesco grandi soddisfazioni e dando fama ad alcuni piloti che poi sarebbero diventati pietre miliari nella storia dell'automobilismo tra questi vanno citati l'immenso Ayrton Senna Jean-Louis Lesser Thierry Butsen Harry Pescarolot e Stefan Johansson anche McLaren è stato ricordato con ben quattro vetture del mago inglese iscritte alla manifestazione tra queste una M1A Canam tra le prime costruite nel 64 una M1B e due M1C con motore Chevrolet e poi le tantissime altre vetture che si sono sfidate in questo meraviglioso concorso dinamico a cui le immagini di queste pagine rendono solo in parte omaggio ma che gli appassionati potranno scoprire nella quasi totalità in rete al termine dei tre giorni passati Castellar 4 risulta difficile dire quale vettura meriti il titolo di migliore della manifestazione ogni esemplare è il risultato di un lavoro di gruppo di studi prove speranze e molte volte insuccessi ed eventi tristi ma con sempre il desiderio e la passione che una volta stimolava la voglia di successo successo che sicuramente riderà anche la prossima edizione della Vernasca Silver Flag ne siamo certi grazie a tutti 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 Grazie.